Ciao amici di MyFastbook, oggi volevo segnalarvi l'uscita di un libro bellissimo scritto da Fausto Brizzi, ho sposato una vegana, una storia vera purtroppo, vi leggo dalla quarta di copertina, le tragicomiche avventure di un onnivoro perdutamente innamorato di una donna con abitudini alimentari che lui pensava destinate solo ai ruminanti, un libro divertente e affettuoso su una delle ossessioni della borghesia moderna, il cibo sano e morale, sposare una vegana ha conseguenze imprevedibili, puoi ritrovarti a brucare l'erba da un vaso sul terrazzo e sentirti in colpa per tutte le telline mangiate nella tua crudele vita precedente, seguire questa dieta scopri inoltre comporta un grande dispendio di energie e chissà perché di denaro, roba da diventare nervosi per davvero, ancora più quando dopo mesi di torture con sorpresa e quasi fastidio sei costretto ad ammettere che i tuoi esami medici sono per la prima volta perfetti. A ogni modo la storia di Fausto e Claudia ha un lieto fine, nel senso che Claudia vince, stravince, sarebbe più corretto dire e Fausto si arrende senza nemmeno per l'onore delle armi. Le cose vanno bene, solo che proprio sui titoli di coda spunta una complicazione, l'imminente arrivo di una figlia avrà cuore Fausto per farne un'erbivora fin dalla nascita? Le premesse sono fantastiche di questo libro, anzi io adesso passerei a leggervi proprio diciamo la presentazione, il primo capitolo, la preview. Io l'ho già letto un pezzettino e veramente è simpatico e da ridere, poi lo leggerò tutto, ma adesso ascoltatemi. Eccoci, allora, e vissero per sempre felici e contenti. Tutte le storie d'amore delle favole si concludono così, con gli aggettivi più ottimisti e simpatici dell'intero vocabolario. Una frase ingannevole che ci fa sognare che quella coppia, dopo aver superato incantesimi, draghi, matrini e streghe, sarà indivisibile fino alla notte dei tempi. Una frottola clamorosa, raccontata ai bambini affinché si illudano che l'amore eterno esiste davvero, almeno fino a quando quella stronzetta con le trecce del secondo banco non li lascerà durante la gita Pompei in terza media. Le fiabe sono congegnate ad arte proprio per alimentare questo equivoco. E si interrompono infatti un attimo prima che entrino in scena i veri cattivi, talmente malvagi che rispetto a loro Capitano Uncino e Crudelia de Mon sono dei simpatici monelli, gli avvocati divorzissi. Se tra voi che leggete queste righe si nasconde il futuro avvocato divorzista di mia moglie ci tengo a precisare che nei capitoli che seguiranno la prendo in giro bonariamente col suo consenso e la sua benedizione. Ma ci tengo anche e soprattutto a fargli sapere che ogni drammatica vicenda narrata è realmente accaduta e non è frutto della mia fantasia. Ho centinaia di parenti, amici e conoscenti che possono correre a testimoniare a mio favore e confermare l'accaduto sotto giuramento perché hanno assistito, partecipato e in qualche caso più sfortunato assaggiato. Così magari caro avvocato quel giorno in udienza sarà un po' più clemente con me o almeno mi regalerà un accenno di sorriso dal significato inequivocabile. Io so tutto quello che ho dovuto sopportare, sono dalla tua parte, mi dispiace amico ma devo fare il mio mestiere. Dicevo, le storie d'amore hanno una fine, una data di scadenza ma di solito è poco interessante da raccontare, è molto prevedibile. Tradimenti, inganni, piatti rotti, sms rivelatori, lacrime versate e provocate, inutili pause di riflessioni, figli rimbalzati qua e là come palline di un vecchio flipper, librerie e dischi da dividere, se siete over 40 se no molto più facile. Tutti noi abbiamo dovuto sorpirci il resoconto dettagliato e sempre sofforifero della conclusione del fidanzamento o del matrimonio di un amico disperato, quindi sapete benissimo di cosa parlo. A volte naturalmente siamo stati noi ad annoiare il malcapitato di turno con le nostre lamentele, arricchite dai pianti e recriminazioni. Solo chiacchiere e singhiozzi inutili. Sono le ore perse in lacrime di una storia appena terminata, quelle che rimpiangiamo negli anni successivi. Se potessi recuperare le ore consumate ad ascoltare canzoni di baglioni dopo che una ragazza mi aveva lasciato, avrei almeno un paio di anni di meno. La fine di un amore è una pagina da strappare nel riassunto di una vita, una parentesi superflua che regala solo rimpianti e cicatrici. La parte avvincente, quella che fa commuovere ed emozionare il pubblico, lo sanno bene gli sceneggiatori o le buliani, è sempre l'inizio che è ogni volta diverso, pur essendo in fondo sempre uguale. Tutte le storie d'amore cominciano infatti con un primo appuntamento. Il primo appuntamento